Altra fatica, altra impresa, altra giornata eroica e ricca di soddisfazioni quella dell'AS Montoro Stefano Garzelli. Gli allievi e gli esordienti della squadra irpina hanno dato vita a un weekend ampiamente positivo sulle strade di Molise e Campania. A Indiprete dove si è svolto il Memorial Carmine Tamburri, ultima prova del trittico del Molise, prova di caratura nazionale del panorama ciclistico italiano, era impegnata la categoria allievi che è stata protagonista di una condotta positiva di corsa sfiorando la vittoria con Mario Iannone e Fabrizio Ciro Cucciniello. I ciclisti hanno terminato la corsa rispettivamente al quinto e al settimo posto. A Sant'Arsenio, comune salernitano ricco di asperità e dunque adatto agli scalatori, il team giovanile montorese si è messo in mostra al Meridiana Day grazie a Gianluigi Romano che ha accolto il quarto posto nella gara esordienti. Tutti questi piazzamenti arrivati nella top 10 infondono fiducia per un mese di settembre ad alto livello con la Coppa Dino Didd in Toscana, la Coppa d'Oro in Trentino e la Como Ghisallo in Lombardia per continuare a lasciare il segno prima di pianificare al meglio la stagione 2018. Questo sport in Irpinia continua a raggiungere risultati importanti, sintomo di un movimento, quello ciclistico, in netta crescita e di una passione ineguagliabile in termini di sacrificio e spettacolarità intrinseca dello sport stesso.